partiti al comando si porta Dolce Segreto avendo all'esterno Dayton Way quindi Papa Loca per linee interne a Mamelz con all'esterno anche Altermont, Boucher King ed in coda Morning Flower gruppo ben riunito lungo la curva alle spalle di Dolce Segreto quindi all'argo Dayton Way e all'interno a Mamelz Cavalli all'ingresso in retta di arrivo con Dolce Segreto in leggero vantaggio nei confronti di Dayton Way per linee interne cerca il barco a Mamelz seguito da Morning Flower a centro gruppo e Boucher King, all'argo sono Papa Loca e Altermont a 400 dal palo sta allungando Dolce Segreto nei confronti di Dayton Way poi Altermont Boucher King e Amamelis siamo a 250 dal palo Dolce Segreto ha preso un leggero margine nei confronti di Dayton Way che ci prova al suo esterno più a largo si avvicina anche Boucher King nel tratto finale Dayton Way attacca a fondo Dolce Segreto e passa di forza al terzo posto Boucher King davanti a Altermont andiamo a rivedere le immagini di questa quarta corsa di Napoli con Dayton Way e Carletto Fiocchi in evidenza numero 3 dello schieramento nel tratto finale emerso di forza a piegare la resistenza di Dolce Segreto numero 4 al terzo posto risale bene il finale il 2 di Boucher King quindi 3-4-2 il probabile ed ufficioso arrivo della quarta di Napoli e il 2 di Boucher King e il 2 di Boucher King e il 2 di Boucher King e il 2 di Boucher King